Io penso che voi media abbiate proprio la necessità di individuare un leader perché è anche molto molto più semplice schematizzare Veramente oggi ne ha parlato Paola Taverna sui periodi della sera Ma veramente vede sempre il periodo della sera che vuole un leader Ma non c'è un leader, noi abbiamo una leadership plurale Leadership plurale significa che c'è la collegialità poi in un momento il calcio di rigore lo può tirare Francesco Totti in un altro momento lo può tirare De Rossi L'importante è che non lo tiri l'arbitro Rocchi